Comincia una nuova puntata di Cronaca e Trevigiane, rimaniamo sempre nell'attualità, vi vogliamo raccontare questa settimana di un accordo, un accordo tra un'azienda, un gruppo trevigiano, un gruppo Ascopiave e la sua Ascotrade, la commerciale, con i sindacati di quattro province del Veneto. Abbiamo ospite Stefano Busolin, presidente di Ascotrade, un accordo che guarda ovviamente alle famiglie e in che cosa consiste, Presidente? Un accordo che guarda le famiglie e i nostri clienti veneti, dopo quelli trevigiani e bellunesi, è un accordo che abbiamo sottoscritto con i sindacati veneti e che dà la possibilità di tagliare fortemente il costo delle bollette, quindi siamo a 250 euro all'anno di risparmio per le famiglie che rientrano nel reddito ISE dei 20.000 euro annui. I sindacati inferiori ai 20.000 hanno queste agevolazioni, questi aiuti che cercano di ovviamente stare vicino al territorio, i sindacati poi li sentiremo, hanno riconosciuto il ruolo sociale di Ascotrade? Sì, noi siamo prima di tutto un'azienda, quindi dobbiamo pensare al nostro business, alla nostra crescita, al benessere dell'azienda, però non dobbiamo dimenticare le nostre famiglie, soprattutto i nostri clienti. E sulla base di questo, 5 anni fa quando siamo partiti con i sindacati travisiani e bellunesi, abbiamo appunto pensato all'aiuto che potevamo dare alle nostre famiglie, oggi di fronte a una crisi importante, un momento difficile, le famiglie fanno veramente fatica ad arrivare a fine mese, non sanno come pagare le bollette. Un'azienda del territorio, Ascotrade, propone ai propri clienti un'opportunità di forte risparmio, che è quello che dicevo prima, attraverso questa iniziativa. Vale per tutti invece la scontistica attuata dall'autorità dal primo aprile, sulla quale, da quello che abbiamo capito, voi avete raddoppiato? Sì, sostanzialmente il vantaggio che porta l'autorità per l'energia elettrica, che dal primo aprile ha tagliato del 4% il costo della bolletta del gas, si va a sommare al risparmio che portiamo noi e i nostri clienti. Quindi noi l'abbiamo contabilizzato più o meno a 300 euro all'anno di risparmio, una cifra sicuramente importante. Se pensiamo che sono 6 le bollette che arrivano, stiamo parlando di 50 euro a bolletta di risparmio rispetto all'esistente. Allora, grazie, grazie a Stefano Busolin. Noi ci fermiamo qui e ci guardiamo insieme a questo servizio di Cronache Trevigiane. Tra poco Fulvio Zugno, presidente del gruppo Ascopiave, i nostri microfoni, che ci parlerà anche di quanto il gruppo ha voluto investire e donare alle famiglie del Veneto. Rimanete con noi a tra poco.